La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione internazionale da protagonisti è tanta perché comunque la sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro e non la potremo mai cancellare però credo che in questi anni siamo stati bravi a trasformare magari quella delusione in tanto entusiasmo, in tanta voglia di far bene e io sento che questo sentimento non c'è solo in noi che l'abbiamo vissuta sul campo ma proprio in tutti i tifosi di questa nazionale non avete idea di quanti persone, amici, conoscenti nell'ultima settimana si stanno galvanizzando in attesa dell'arrivo della nazionale di una manifestazione che manca ormai da 5 anni di viverla così per tutta l'Italia quindi lo sappiamo e veramente noi non vediamo l'ora di scendere in campo e di vivere queste emozioni tutti insieme